bello a tutti ragazzi benvenuti in questo momento come potete vedere siamo sul quarto episodio su stack ball a livello 35 capito male per il lag iniziamo dai non mi fa ma lo smetti di laggare non ci faremo livelli dal 35 40 livello 36 completato livello 37 40 che cosa è successo a 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 tapping ok ok l'ho 37 completato sono seguito no andiamo a morire non ci vedo ancora queste dannate pubblicità guardate anche devo crescere no andiamo a morire no oddio questo è a livello dell'inferno dell'inferno no molto per no andiamo a morire qui all'inferno iscrivava attenzione stop ok ora attenzione non dobbiamo toccare il nero poi spacchio spacchio ci abbiamo fatto non ci credo ragazzi ho dovuto togliere per la pubblicità quindi continua attenzione di scatola grandi ultimo livello per oggi non 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 le scatola boom ok ok ragazzi io direi che per questo episodio di stackball potrei finire qui mettete un bel like iscrivetevi al canale e niente ci vediamo al prossimo video gamble fans